Cerchiamo di entrare in questa scena. Ragazzi, aiuta la meditazione l'immaginazione. Se non sappiamo immaginare, purtroppo oggi siete un po' sminuiti nell'immaginazione rispetto ai tempi della mia giovinezza perché avete tante immagini e basta cliccare e c'è tutto. Invece noi avevamo una grande fantasia e la fantasia nel meditare il Vangelo è un aiuto. Alzi la mano chi non vuole essere felice. Tutti. E' certo. La felicità ci sta a cuore. Non ci basta vivere. Vorremmo vivere a piedi. Vorremmo vivere a premila. Vorremmo vivere cogliendo il meglio della vita. Vorremmo vivere felici. Non abbiate paura di questa parola. Ragazzi, voi riuscirete nella vita se avrete questo desiderio. Qualsiasi sia la vostra strada, il vostro sogno, abbiamo ascoltato sogni di matrimonio belli, queste coppie resisteranno se abiteranno con Gesù. Quindi qualsiasi sia la tua strada, il tuo sogno, il tuo ingegnere, l'inventore, tu devi imparare a stare con Gesù. Tu sei dove volevi e stai. Fatti felice che vuoi. Io ti cammino e ho ancora.